we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video sono xyuderone e ragazzi continuano sempre ogni giorno ad uscire cose nuove riguardanti la season numero 9 di fortnite oramai arrivata già alla 48esima ora dalla sua uscita insomma ragazzi una season che lentamente sta cominciando ad avere un certo corpo un'anima propria stiamo ancora valutando se in realtà le nuove introduzioni siano positive o negative si cominciano a sentire un po' di campane di qua e di là su youtube su reddit su tutti i forum della community di fortnite al centro dell'attenzione ancora il nuovo pump e ancora una moltitudine di utenti che si lamentano del portare in magazzino il pompa del nonno ma molte altre modifiche anche per quanto riguarda i nuovi condotti di areazione che già vi dico sono stati leggermente nerfati da epic games con un tweet ufficiali adesso si va un po' più lenti nei tunnel di areazione questo ve lo dico molto molto velocemente senza perderci troppo tempo ma nel video di oggi ragazzi parleremo di un evento di fortnite un evento dal vivo che verrà fatto dai creatori quindi dallo staff di epic games vi approfondirò un pochettino sulla questione ma si parla anche di un nuovo minigame presente proprio nella mappa o meglio l'inizio di un nuovo minigame ve lo farò vedere con uno spezzone video e ragazzi un bel po' di leaks tra cui anche un altro argomento che è sulla bocca di tutti ovvero sia il possibile ritorno di john wick ahimè ahimè perché io ho john wick della season 3 insomma ragazzi ce ne sono davvero di tutti i colori voglio però prima ringraziare tutti quelli che utilizzano nello shop il mio codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per sostenere il canale non dimenticatevi di iscrivervi e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima eia la domandina ragazzi ve la devo fare ve la devo fare mi avete risposto in tantissimi alla domanda di ieri oggi ve ne faccio un'altra e dai se ieri vi ho chiesto come vi sembra la season oggi vi chiedo qual è la tua skin preferita del pass battaglia di questa season dai ce ne sono veramente tante in questo pass battaglia ne abbiamo viste già alcune più o meno chi ha sciopazzato già tutto il pass battaglia o ha preso quello da 25 ne ha già alcune la mia preferita ragazzi è daim penso che si pronuncia così molto molto bella mi piace anche ovviamente john c jones il tizio barbutone però lei è veramente molto molto carina e ci sta assolutamente un botto nella nel pass battaglia numero 9 ditemi la vostra preferita qua sotto mi raccomando con un bel commento ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere una curiosità siamo a crocevia del ciarpame forse non tutti sanno che a crocevia del ciarpame ragazzi è stata letteralmente portata la torre dell'orologio di pinnacoli della ex pinnacoli oramai che purtroppo non vedremo molto probabilmente mai più in game con tanto di orologio abbandonata così ragazzi nell'immondezzaio di fortnite un po mi dispiace che l'abbiano messa lì io sinceramente l'avrei più eletta tipo monumento non lasciata in un posto a se stessa abbiamo anche un'altra immagine che ce la fa vedere da una nuova angolazione per curiosità potresti trovarci dentro un bel cestino ragazzi perché a volte si trova anche quello quindi almeno la torre di pinnacoli è rimasta in game anche se in un modo che a me sinceramente non piace particolarmente ma andiamo avanti ed ecco qua ragazzi la schermata ufficiale dell'evento di cui vi parlavo poco fa si chiama fortnite summer block party e sarà una due giorni dal vivo per noi ai noi in california ragazzi dove però si potrà assistere ugualmente attraverso tutte le piattaforme di streaming su twitch su youtube seguendo anche la pagina instagram di ap games insomma rimarrete sempre aggiornati ed sarà molto divertente perché in questa due giorni ci sarà una modalità creativa particolare per tutti i partecipanti stiamo parlando di nomi di alto livello ninja daikan tfu face clock insomma ci sono veramente tutti i ragazzi che si divertiranno il primo giorno in questa modalità che è un sabato mentre invece alla domenica ritornerà il fortnite pro am insomma la competizione vera e propria sempre giocata da tutti questi pro player della scena mondiale di fortnite che garantiranno assolutamente tanto tanto divertimento in quanto tutti in un'unica lobby vi ricordo evento 15 e 16 giugno ma avremo modo ovviamente di approfondirlo con il passare dei giorni ma andiamo avanti ragazzi ed ecco un'altra delle notizie più calde di questa season numero 9 la facciona di una delle skin più bramate perché molti giocatori davvero ragazzi sono arrivati dopo la season 3 oramai siamo alla 9 quindi cominciano a essere skin abbastanza interessanti john wick skin del pass battaglia livello 100 season numero 3 che si potrebbe forse riavere io spero davvero ragazzi sono di parte spero di no perché dai perderebbe la rarità ma è stato trovato questo nei file di gioco ragazzi new john wick skin set con due nomi addirittura cosmetic set assassin suite display name john wick quindi ragazzi è in game questa cosa è una riga di codice che probabilmente preannuncia io mi auguro solo delle sfide per chi ha john wick ma mi puzza un po la cosa perché non ha senso far uscire una roba del genere anche perché ragazzi ha un'altra immagine interessante che si chiama wicks bounty questa invece ragazzi è una serie di sfide di una modalità a tempo limitata particolare che ci richiama al nome john wick quindi giocare vincere una partita nel wicks bounty ci dare ci darà non si sa che cosa giocare delle partite un totale di sette nella modalità ci darà non si sa cosa quelli sono proprio premi fisici no sono outfit oppure picconi oppure delta non lo si sa ragazzi saranno comunque delle cose materiali ottenibili mentre tutte questa serie di sfide queste quattro sfide invece garantiranno solamente semplicemente 500 punti esperienza quindi ragazzi per il momento non si sa altro ma c'è una grande paura da parte dei vecchi giocatori che appunto la skin di john possa tornare e quindi essere ottenibile da tutti andrebbero però contro al regolamento che vieta da parte proprio di epic games di reinserire nei pass battagli negli shop le skin del pass battaglia staremo a vedere ragazzi appena ne sapremo di più ma ecco un'altra cosa interessantissima di cui non vi avevo ancora anticipato ragazzi ho un'immagine incredibile questo lo riconoscete il logo principale del fort bite quindi questi chip che ogni giorno appaiono nella mappa e che io vi ricordo sempre sono disponibili nel mio canale sulla pagina sulla home page dove c'è una playlist che si chiama proprio fortnite fort bite posizioni dove ogni volta che ce n'è uno io vi dico dov'è vi spiego come andare a prenderlo ma ragazzi ecco qua il 30 per cento dei fort bite spoilerazzati liccati ragazzi e si può vedere un'immagine molto interessante al centro la skin sembra proprio john say johns insomma il nuovo tizio con la barba lunga intanto mi sono reso conto che non sono riuscito a farvi vedere il minigame ve lo farò vedere ragazzi nel video di domani perché abbiamo già quasi sporato in alto c'è il cubo ragazzi quindi c'è kevin che ancora torna prepotentemente nelle immagini delle varie season anche se non sappiamo se realmente tornerà mai oppure no abbiamo le banane come vedete e abbiamo ragazzi un occhio proprio qua oppure un cratere un buco potrebbe anche essere magari il vulcano visto dall'alto insomma ragazzi sotto questa immagine dicono che c'è nascosto il segreto della season 9 staremo a vedere piano piano che diamine è ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale codice xuderone noi ci vediamo alle 13 in live ciao